Questo appello, il Comitato C6, lo rivolge al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, al Ministro della Salute Giulia Grillo. Gentili ministri, consapevoli del fatto che edempiere a tutto è difficile, chiediamo comunque di rivolgere il vostro riguardo in questo territorio. Come sapete, la Lombardia è una delle regioni più inquinate d'Europa. Il sud-est di Milano è stato sempre un luogo dove molti hanno promesso, ma nessuno ha realizzato. Vi chiediamo pertanto di darci una mano nel trasformare un bisogno in realtà. Il Comitato C6 dice no al bus rapid transit, sì al prolungamento della M3. La Befana con la sua delegazione ringrazia.